Nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso, l'avvicendamento questa mattina. Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, a distanza di poco più di un anno dal suo arrivo, Marcello Lombardini lascia il posto all'ingegnere Gianfranco Tripi, che arriva dall'Emilia Romagna. Oggi la cerimonia di avvicendamento nella casarma di via Sant'Antonio dei Lazzari. Un segno importante è quello che lascia Lombardini, che ora andrà a ricoprire un nuovo prestigioso incarico da dirigente dell'ufficio di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle dirette dipendenze del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Così il suo bilancio. Quello che ricordo con più attaccamento come intervento, come peculiarità, è sicuramente stato l'incendio che abbiamo avuto nel dicembre dell'anno scorso con la morte del bimbo. Quello è stato un intervento molto particolare. Particolare sia per le caratteristiche dell'intervento che soprattutto per la morte del bimbo. Anche se in quel caso, come dissi nell'intervista, abbiamo ridotto la magnitudo. Quindi abbiamo fatto sì che gli altri componenti della famiglia fossero salvati, messi in sicurezza l'abitazione dove c'erano altri nuclei. Quello è il ricordo che porterò nel cuore come intervento di maggiore filiera. In 16 mesi lascio una regione, quindi un territorio compreso quello di Sernio, con cui abbiamo avuto un'ottima collaborazione. È un territorio che è quello della provincia di Campobasso, di persone per bene, di un comando con ragazzi molto attenti, sia dal punto di vista operativo, quindi personale operativo che personale amministrativo. È anche un'ottima collaborazione con la direzione, ma soprattutto con le istituzioni. Con la Prefettura abbiamo avuto un legame molto intenso, sotto il suo coordinamento abbiamo fatto tante cose. Quindi ringrazio con l'occasione anche il Prefetto. Intanto, così il nuovo comandante Gianfranco Trippi. Io già dai primi incontri che ho avuto la possibilità di fare con il personale, penso di trovare un comando, una regione di persone appassionate, appassionate e molto volenterose, professionali, e quindi credo che questo periodo che mi accingo a trascorrere all'interno del comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso sarà un periodo proficuo e quindi sono molto ottimista sulla possibilità di instaurare buone relazioni sia all'interno ma anche all'esterno del comando.